Salve a tutti, sono il dottor Marco Parè, faccio corsi di ipnosi, insegno delle tecniche uniche di ipnosi, ho avuto studenti un po' dappertutto nel mondo e gli studenti vengono da me, ho delle tecniche eccezionali, presento veramente delle cose innovative, basate sullo sguardo, sul contatto corpo, sulla comunicazione, non per fare. I think the last time you had maybe tenias. I think the last time you had maybe tenias. And she could do it very well, and because when we have the gaze, the organism get completely, in some way get relaxed.